Benvenuti a Creazione nel ventunesimo secolo. Qui è David Reeves che vi parla. Il titolo dell'episodio di oggi è La risposta biblica al razzismo. Prima di cominciare vorrei che sapessi che tu non sei nato per caso, sei speciale, creato a immagine e somiglianza di Dio. Il libro di Giovanni ci dice che nel principio Gesù creò tutte le cose. Lui è vivente e ha un piano oggi per la tua vita. Un grande ringraziamento va alla TCE e allo straordinario team che rende possibile a questo programma. Assicuratevi di chiamare tutti i vostri amici e familiari. Ditegli di sintonizzarsi sul nostro programma. Sono certo che conoscete qualcuno che ha davvero bisogno di ascoltare il messaggio di oggi. E adesso il segmento I Cieli dichiarano. Un buon esempio della complessità e della progettualità di ognuno di noi lo si può trovare studiando la genetica. Moltissime volte risulta difficile afferrare i concetti relativi alla genetica a causa della sua complessità. Guardiamo per un attimo al codice della vita e vediamo se possiamo comprendere qualcosa sul creatore di questo codice. Perché credere nella creazione anziché nell'evoluzione? Parlo da un punto di vista scientifico. Abbiamo la prova che l'evoluzione sia un fatto certo? Immaginiamo di camminare lungo una spiaggia e di trovare questa pietra bianca e liscia con degli strani segni intagliati. Presumereste automaticamente che il movimento delle onde abbia inciso casualmente quei segni sulla pietra? Dareste il merito dell'autore di quest'opera un essere umano intelligente? Anche se non sappiamo leggere quello che c'è scritto sappiamo riconoscere un linguaggio quando lo osserviamo. E sappiamo che questo linguaggio richiede sempre una mente. Il DNA alla doppia elica e il nucleo di ogni cellula del tuo corpo sono un sistema linguistico. Il DNA si compone di solo 4 lettere definite nucleotidi che possono dar vita a 20 diverse sostanze chimiche chiamate amminoacidi. Questi amminoacidi sono gli elementi fondamentali delle 100.000 proteine di cui ha bisogno il corpo umano. Ogni essere vivente che va da una rana a un iris fino all'essere umano contengono un unico codice genetico con le istruzioni necessarie per sviluppare quel proprio organismo. L'acido desossiribonucleico, il nostro DNA, è un sistema linguistico altamente complesso, di gran lunga molto più complesso di qualsiasi computer o di ogni altro sistema linguistico. Il dottor Werner Gitt ha calcolato che il DNA, grande quanto la punta di un ago, contiene abbastanza informazioni per riempire una pila di libri che vanno dalla Terra alla Luna per 500 volte. Creare un sistema linguistico è una cosa abbastanza complessa. Poi bisogna essere anche in grado di leggere questo sistema e di capirlo. Potrei avere un manuale di istruzione scritto in cinese mandarino, ma questo non mi sarà di nessun beneficio, a meno che non sappia leggere e comprendere il cinese mandarino. Grazie a Dio, il nostro corpo sa creare e leggere il sistema linguistico del DNA. Una lingua non spunta mai, casualmente. L'informazione proviene sempre da un'informazione già esistente o da una mente. Allora da dove provengono le meravigliose informazioni contenute in ogni filamento del DNA? La scienza evoluzionista lo spiega dicendo che ciò deriva da un processo casuale avvenuto in milioni di anni. La casualità e la probabilità possono produrre un sistema linguistico che riesca anche a leggere e comprendere le istruzioni? Non mi importa quanti milioni di anni vengano dati. Le informazioni del DNA provengono dalla mente di un creatore, lo Yahweh della Bibbia. La Genesi ci dice nel principio Dio creò. Il complesso linguaggio del DNA porta le impronte del creatore e non i tratti caratteristici di eoni casuali. Prendiamo soltanto un altro motivo dal punto di vista scientifico per cui non bisognerebbe credere al processo evolutivo che va dalle molecole all'uomo. Ci vuole tantissima fede. Qui è David Reeves, è vero, i cieli dichiarano la gloria di Dio. Vedete, il progetto di ciascuno di noi implica la presenza di un creatore, il quale ci ha creato nel principio. E non solo questo, in quanto esseri umani tutti noi condividiamo un discendente comune. E non parlo di discendenti comuni che sono simili a scimmie, ma di discendenti, cioè uomo e donna, che troviamo nella Bibbia. L'ospite di oggi ci spiegherà che ciò ha validità indipendentemente dal colore della pelle, dalla forma degli occhi e dalla cultura dalla quale proviene. Brian Osborne ha un master in scienza dell'educazione alla Lee University, ha insegnato storia della Bibbia nella scuola pubblica per 13 anni, è uno degli oratori nel Ministerio Risposte alla Genesi e ha passione nel contrastare la crescente epidemia della mancanza di conoscenza biblica. Perciò andiamo insieme a conoscere il nostro ospite di oggi, nonché mio amico Brian Osborne. Benvenuto nel programma. Grazie per l'invito. È un grande piacere averti qui in studio. Bene, ascolta, amiamo il Ministerio Risposte alla Genesi, è quello che viene fatto. Raccontaci un po' del Ministerio. Sì, abbiamo il Museo della Creazione nel nord del Kentucky. Hai portato delle foto del museo. Sì, ecco, abbiamo il parco tematico L'incontro dell'Arca, che certamente le persone conoscono. E ci sono dei conferenzieri come me che viaggiano per conferenze per diffondere il materiale Risposte alla Genesi. Siamo un ministerio apologetico, ci concentriamo per preparare i credenti a difendere la fede dagli attacchi al libro della Genesi. Certo. Perciò ci appoggiamo sul fondamento della parola di Dio, dando risposte per conto della risposta Gesù Cristo. Amen. Meraviglioso. Ok, questo è uno degli argomenti più delicati dei nostri tempi. Come sai, la gente non vuole parlarne, ma è così importante avere un fondamento biblico per comprendere da dove proveniamo tutti noi. Hai portato tantissimo materiale per poterlo spiegare. Cominciamo. Parleremo di un sacco di cose. Tutto questo però viene fatto per difendere la fede nel proclamare il Vangelo, come scritto in prima Pietro 3,15. Ecco il punto. Se ci appoggiamo alle scritture e diciamo questa è la parola di Dio, allora ci sono delle domande che hanno bisogno di ottenere risposta. Del tipo, da dove provengono tutte queste differenti persone se tutti proveniamo da Adamo ed Eva? Ok. Ricordiamo già da adesso che è fondamentalmente l'argomento dell'origine dei diversi gruppi di persone, così come lo studio del DNA, l'età della Terra e i dinosauri, che si tratta fondamentalmente di un problema di come interpretiamo la nostra realtà. Ok. Perché tutti gli scienziati possiedono gli stessi strumenti, le stesse persone, lo stesso DNA al presente, giusto? Certo. Ma interpretano queste cose in modo diverso. Fanno supposizioni riguardo l'origine basandosi su un diverso punto di vista della realtà. Perciò guardiamo le stesse prove, ma si tratta solo di interpretazioni che si basano su punti di partenza differenti. Sì, dei presupposti errati portano a delle conclusioni errate. Molto spesso ci viene chiesto, com'è che degli scienziati così intelligenti possono sbagliarsi? Ma perché questo non è un argomento che riguarda la mente, ma è il cuore. Il problema del cuore rimanda dal problema dell'autorità. A quale parola crederai? Alla parola di Dio o a quella dell'uomo? Certo. Questo mi ricorda la storia di una bambina che chiede al padre e papà, da dove vengono le persone? Il padre le dice, sai tesoro, Dio ha creato Adamo ed Eva e questi hanno avuto dei figli, così ha avuto origine nella razza umana. La bimba va dalla madre, mamma, da dove provengono le persone? La mamma le dice, vedi tesoro, delle creature simili alle scimmie hanno iniziato ad evolversi milioni di anni fa e sono diventate delle persone. La bambina torna dal padre e gli dice, papà, sono confusa, tu mi hai detto che Dio ci ha creati, mentre la mamma mi ha detto che proveniamo dalle scimmie. Chi ha ragione? Suo padre le dice, è facile da capire, io ti ho raccontato a dove proviene la mia famiglia, mamma, da dove arriva la sua? Ora, io non sono d'accordo necessariamente con quello che ha detto questo papà, però ti fai un'idea che i presupposti sbagliati portano a delle conclusioni sbagliate. Ecco perché alcune persone fanno errori su questo argomento, perché partono con il presupposto sbagliato. Ora, secondo la prospettiva evoluzionista, ecco da dove proveniamo. La vita proviene dalla non vita 3,5 miliardi di anni fa e si è evoluta dal pesce agli anfibi e poi a migliaia di mammiferi e alla fine in esseri umani. Noi esseri umani e le scimmie abbiamo in comune un antenato e questo, questo forse sarebbe il nostro nonno e questa nostra nonna. Ma, fanno paura, vero? Mamma. Ora, secondo il punto di vista evoluzionista, da questi antenati otteniamo i diversi gruppi di persone che vediamo oggi. E con questo presupposto si giunge ad una conclusione molto facile, come se si stesse dicendo, beh, se questo fosse vero, allora certe persone sarebbero più evolute di altre. Ah, capisco. Perciò, qui si può notare come si venga rapidamente influenzati dall'idea del razzismo. È esattamente quello che Darwin ha scritto nel libro L'origine dell'uomo, in cui si parla della continuazione della specie. Darwin ha detto, in un futuro le razze civilizzate dell'uomo probabilmente stermineranno e sostituiranno le razze umane selvagge. Oh. Ora, a quale razza civilizzata pensi si stesse riferendo? Alle persone con una pelle più chiara. Sarebbero i discendenti... I discendenti europei. Sì, i discendenti europei, ma alcuni di loro, se si sono evoluti dalle scimmie, devono apparire più vicini alle scimmie. Esatto. Sappi che le razze selvagge sarebbero quelle persone con la pelle più scura. Ok. Ma diciamo subito che l'evoluzione non ha inventato il razzismo. Il razzismo proviene dalla parola peccato. Peccato. Il peccato del razzismo. La conseguenza di questo concetto, ai tempi di Darwin, è stata quella di dare a alcune persone una giustificazione scientifica per il razzismo. Certo. E questo ha avuto una forte influenza. Perciò i punti di vista sulle realtà hanno delle conseguenze. Ora, parlando della Bibbia, come possiamo comprendere i differenti gruppi di persone? Beh, la Bibbia ci dice che Dio ha creato Adamo ed Eva e i figli e i figli dei loro figli. Si ha così l'umanità. Questo ci dice che tutto risale ad un uomo e a una donna, Adamo ed Eva. Ok. Cosa significa, parlando dal punto di vista biblico, quante razze ci sono? Soltanto una. Sola una, la razza umana. Questo è il motivo per cui tutti noi siamo peccatori e abbiamo avuto bisogno di un Salvatore, l'ultimo Adamo, cioè Gesù Cristo. Certo. E questa cosa ci porta al cuore del Vangelo. Perciò il fatto di far risalire tutti gli esseri umani ad un uomo e ad una donna è di vitale importanza, perché la Bibbia in 1 Corinti 15 e in Romani 5 dichiara che a causa dell'uomo è arrivata la morte nel mondo. In Adamo tutti sono morti. Certo. Poiché siamo discendenti di Adamo ed Eva, siamo peccatori per natura e per scelta in aperta ribellione contro il nostro Creatore. Sì. Ecco perché Gesù è diventato l'ultimo Adamo. Dio, la seconda persona della Trinità, si presenta nel mondo e si fa uomo. Certo. Giusto? Prende su di sé il castigo di tutti i nostri peccati. Come sacrificio, puro e senza macchia. Quindi possiamo avere fede in Lui, possiamo essere salvati. Lui è risorto dalla morte. Così possiamo avere la stessa risurrezione se abbiamo fede in Lui. Il punto è che Gesù è diventato l'ultimo Adamo. È diventato sangue del nostro sangue. Ha pagato il debito che noi non avremmo potuto pagare affinché tutti i discendenti di Adamo avessero l'opportunità di essere salvati. Wow. Tutto questo ha senso. Se siamo tutti di uno stesso sangue, imparentati. Secondo il punto di vista evoluzionista, però, questo non ha senso. Se non siamo tutti discendenti di Adamo, allora non tutti possono essere salvati. Ora, questa affermazione è di grande importanza teologica. È una questione molto, molto importante, anche se molti cristiani non comprendono il motivo per cui questo sia così importante. Sai chi ne comprende l'importanza? Gli atei. Oh. Sì, sembra che gli atei lo comprendano molto bene. Questa è una citazione di un ateo di un paio di anni fa. Dice, L'assenza di Adamo ed Eva significa la mancanza del bisogno di un salvatore. Significa anche che la Bibbia non può essere degna di fiducia. È una risorsa completamente inattendibile perché tutto inizia con un mito e tutto si fonda su questo mito. L'assenza della caduta dell'uomo significa la mancanza del bisogno di espiazione e quindi di un redentore. Loro lo capiscono. Se ci si sbarazza della veridicità di Adamo ed Eva, allora ci sbarazzeremo di tutto. Se non c'è un Adamo, allora da dove proverebbe il peccato? Perché mai ci dovrebbero essere delle conseguenze. Entrambe le figure del primo e dell'ultimo Adamo sono centrali per il Vangelo di Gesù Cristo. Da un punto di vista teologico, questo è il motivo per cui è così importante. Sì. Perciò, se ci basiamo sulla parola di Dio ed affermiamo che tutti noi discendiamo da Adamo ed Eva, allora, beh, ci sono delle domande a cui dobbiamo rispondere. Giusto? Del tipo, sono certo che l'avrai già sentita, se tutti proveniamo da una stessa razza, com'è che ci ritroviamo con un diverso colore della pelle? Certo. Io la metto anche così. Siamo di colori diversi o di diverse tonalità? E faccio spesso questa domanda durante le mie conferenze. Siamo davvero di colore rosso, giallo, nero o bianco? Oppure chiedo anche, io sono bianco? E questo li mette in difficoltà. Sono bianco come lo sfondo di questa mia immagine? No. No, giusto? Perciò basta mettere un pezzo di carta bianca per vedere. Già. C'è una grossa differenza. Se sei bianco come quel foglio, allora chiama l'ambulanza o il carro funebre. Non va bene, ti è accaduto qualcosa. Certo. Ora, questo signore viene considerato nero in genere, ma non è nero, è di una tonalità di marrone. Certo. Sotto il profilo biologico-genetico siamo tutti dello stesso colore. Abbiamo semplicemente delle diverse tonalità. Mi piace come lo dimostri. Ora, queste diverse tonalità si basano su un pigmento chiamato melanina. Ora, più melanina hai, più scura sarà la tonalità. Si tratta però di diverse tonalità dello stesso colore. Certo. Nella maggior parte dei casi. Perciò questa è una cosa molto facile da capire e molto interessante da vedere nella realtà. Certo. Assolutamente. Perciò la gente dice, beh, allora di che tonalità erano Adamo ed Eva al principio? Già. Si tratta di tonalità e non di colore. E in quanto cristiani è importante che cambiamo il nostro vocabolario per essere in accordo con la Bibbia. Sì. Vedi, siamo di tonalità diverse, ma non di colori diversi. Siamo di gruppi diversi, ma non razze. C'è solo una razza. Siamo tutte persone colorate. Se non sei colorato sei morto. Ok. Siamo tutti imparentati, tutti parte della razza umana. Siamo tutti collegati. Io e te, siamo imparentati. Parenti distanti, ma siamo imparentati. E c'è soltanto un'unica famiglia, perciò la prossima volta che vedi qualcuno che non ti piace, devi ricordarti che è un mio parente, perciò lo devi amare, giusto? E aiutarlo. Ora, di che tonalità erano Adamo ed Eva? Beh, ci saranno state poche A e B minuscolo sotto il profilo genetico, perché ciò produrrebbe un colorito chiaro. Ma nemmeno molte A e B maiuscolo, perché altrimenti questo produrrebbe una tonalità scura. Ok, perciò hanno in qualche modo una tonalità in mezzo? Stai leggendo la mia slide, perfetto. Ora, Adamo ed Eva hanno avuto molto probabilmente un bel colorito marrone medio, con delle informazioni genetiche che producono molte variazioni persino in una generazione. La tradizione ebraica dice che Adamo ed Eva hanno avuto all'incirca 56 figli. Wow. Beh, quando vivi 900 anni è un corpo perfetto, perché no? Giusto? Certo. Perciò, se hanno avuto così tanti figli, avranno avuto molte variazioni in una sola generazione, però non sapevano mai con quale variazione sarebbe nato il prossimo figlio. Sarebbe stato entusiasmante, no? Adamo che dice ad Eva, forza, vediamo che figlio avremo questa volta. Avranno avuto delle diverse tonalità di colore della pelle. E vediamo accadere la stessa cosa anche oggi. È una cosa incredibile. Qui c'è un esempio di gemelli biologici. Oh, ma guarda. Sono gemelli. La madre è giamaicana e il padre è tedesco. Sono dei gemelli. E qualcuno una volta mi ha chiesto se fossero dei gemelli monozigoti. Semplicemente non ho risposto, ho lasciato stare. Meglio non farlo. A volte è meglio non rispondere. Sono gemelli comunque. Infatti, e qui vediamo che uno di loro ha degli occhi blu. Questo? Uno di loro ha degli occhi blu. Occhi completamente diversi in modo l'altro. L'altro ha degli occhi più scuri. Immagina quando andranno a scuola. Nessuno crederà che sono gemelli. Certo. Bene, ecco qui un altro esempio di gemelle. Guarda alla bellissima variazione che avviene in una sola generazione. Guarda. E qui si può vedere un'altra coppia di gemelli. Questa è molto curiosa. Sono dei gemelli che provengono dagli stessi genitori. Guarda la variazione di queste due coppie di gemelli. Se l'informazione è disponibile, possiamo ottenere una falanga di variazioni in una sola generazione. Vedi, è chiaro il motivo per cui Dio ha allora ha messo quell'informazione in Adamo e in Eva. Ok. Perciò, andando avanti, quando le persone mi dicono, beh, questo è chiaro, ma perché alcune persone riproducono soltanto la stessa tonalità o la stessa forma degli occhi? Perché? Perché? Beh, la risposta chiave a questa domanda è la Torre di Babele. Il racconto biblico. Vedi, quando è stata creata la Torre di Babele, ciò che accade fu che Dio disperse i gruppi per tutto il mondo e diede delle lingue diverse. E questo ha creato dei gruppi genetici isolati. Perciò la gente venne isolata in questi gruppi genetici da condizioni come le barriere e geografiche. La comunicazione era difficile e rimasero bloccati lì. Ok. E c'è anche il fatto che tu hai un nuovo linguaggio. Stai con le persone che parlano la tua propria lingua. Giusto. E questo permette una comunicazione più facile. È chiaro che sposerai qualcuno che parla la tua stessa lingua. Perciò questi gruppi erano isolati sul piano geografico e linguistico e così si crearono questi gruppi isolati geneticamente. Sì. E nei gruppi genetici isolati alcuni tratti diventano dominanti e questi vengono tramandati dalle generazioni. Ok. E vediamo questa continuità in alcuni popoli. Ecco perché alcuni gruppi di persone hanno un'unica predominanza del tono della pelle, della forma degli occhi e così via. Sembra una cosa interessante quando la scienza inizia ad allinearsi alla Bibbia. Da una ricerca del 2012, non molto tempo fa, è emerso che il genoma umano sembra abbia iniziato a diversificarsi meno di 5.000 anni fa. Domandiamoci, cos'è che l'avrebbe causato? L'autore di Babele, grossomodo intorno a 4.300 anni fa, risponde perfettamente a questa domanda. Hanno anche notato qualcos'altro di interessante. Studiando il genoma, notiamo che questo, durante il tempo, peggiora e non migliora. Chiaro? È perfettamente chiaro, secondo una prospettiva biblica. Da un punto di vista evoluzionista, la diversità è crescente e in aumento, così come mostra la sequenza genetica, attraverso la riproduzione selettiva. In realtà si peggiora, sta diventando una cosa molto ristretta, diminuisce, perde qualità. È come la seconda legge della termodinamica, le cose peggiorano da sé. Ti faccio un esempio, prendi un foglio di carta e fai una copia di questo foglio. Qualsiasi cosa sia impressa sulla carta, fanne una copia. Poi prendi quella copia e fai una copia della copia, fai una copia della copia della copia. Alla fine, che cosa ottieni? Che? Peggiorano. Peggiorano, è di molto. E una cosa simile accade al nostro genoma. Perciò sappiamo attraverso la selezione naturale che si possono in realtà prendere due paia di cani di razza robusta, come i lupi o quant'altro, e farli riprodurre in tantissimi gruppi diversi. Una volta che arrivi a un alano gigante non puoi però ritornare indietro al lupo. Perché si stanno riducendo le informazioni. Non si aggiungono informazioni, questa è la chiave. Perciò vediamo che la scienza reale conferma quello che dice la Bibbia. Amo questa citazione, è incredibile. Più studiamo la genetica, più riconosciamo che proveniamo da un'unica razza. Capisci che sotto il profilo genetico ogni persona sul pianeta è identica al 99% dal punto di vista genetico? Davvero? Non è incredibile? Nel 99,9%. Vi è solo l'1% di differenza tra due esseri umani. Più riguardiamo a questo e sempre più scienziati secolaristi iniziano a dire che basandosi sullo studio del genoma, i termini utilizzati per selezionare le persone per razza hanno poco o nessun significato biologico. Interessante. Nessuna. Perché siamo un'unica razza, la razza umana. Il dottor Venter, l'uomo che al principio aveva fatto il progetto Genoma Umano, ha affermato che siamo una sola razza. Benvenuto in Genesi al capitolo 1. Si trova proprio lì, dal principio. Vediamo continuamente queste conferme. Dicono, e sono d'accordo con loro, che dovremmo gettare il termine razze nel cestino, perché c'è soltanto una razza, la razza umana. Ci sono solo due razze spirituali, i salvati e i non salvati. Questo è ciò di cui dovremmo preoccuparci. Sotto il profilo biologico siamo un'unica razza. Il punto è questo. Non voglio dilongarmi, ma è una sfida per la Chiesa e per i cristiani mentre parliamo di questo. Gli scienziati secolaristi di oggi dicono questo. Perché la Chiesa non ha preso una posizione a riguardo molto tempo fa per dire questa stessa cosa? Giusto. Perché non ci siamo appoggiati alla parola di Dio sapendo che c'è un'unica razza e che tutti abbiamo bisogno della salvezza attraverso l'ultimo Adamo? Perché non l'abbiamo fatto? Alcuni cristiani l'hanno fatto. Sì. E' interessante perché un sacco di volte veniamo intimiditi dal mondo e quando questi scienziati con una mente così brillante ci dicono che proveniamo come sai dagli animali, come il prodotto di milioni di anni, quando questi scienziati così brillanti dicono che gli strati rocciosi si sono formati in milioni e miliardi di anni, quando questi brillanti cosmologi dicono che è accaduto tutto per caso durante 14 miliardi di anni, con quella grande esplosione e quella rapida espansione nel tempo diciamo che questi scienziati sono così intelligenti. Non c'è necessità di provare a contrastarli. Eppure la Bibbia ci spiega la storia di ciò nella Genesi, esattamente come l'universo è stato creato. Perciò possiamo stare saldi su questo. E a causa di quella pressione molti cristiani hanno compromesso la Genesi dicendo forse Dio ha usato l'evoluzione, il Big Bang o qualcosa del genere. Sì. Oppure molti altri dicono, beh, non credo che l'evoluzione abbia davvero ragione, ma neanche la Bibbia. Così non dicono proprio nulla. Ci asteniamo così dal confronto. Certo. Quando invece noi abbiamo la risposta al razzismo, lo capisci? Basandoci sulla parola di Dio, provenendo da un uomo e da una donna, ecco alcuni punti chiave riguardo a ciò. Numero uno, ogni singola persona ha valore. Perché? Perché siamo tutti stati creati d'immagine di Dio. Ecco perché tutti noi abbiamo valore. Giusto. Perciò possiamo fondarci su questo come fondamento, che tutti siamo peccatori perché siamo tutti discendenti da Adamo ed Eva. Ok. Perciò tutti noi abbiamo bisogno di essere salvati attraverso l'ultimo Adamo, Gesù Cristo. Così portiamo il Vangelo ad ogni tribù, lingua e nazione. La risposta al razzismo è il Vangelo che cambia il tuo cuore e il tuo pensiero. Giusto. Ma siamo stati spaventati e intimiditi. Ora dobbiamo smettere di fare così e dobbiamo stare saldi sul fondamento della parola di Dio. E vedremo che la scienza confermerà la parola di Dio. Potremmo così rispondere alle domande di quest'epoca e proclamare coraggiosamente il Vangelo. Ecco per concludere un'altra conferma della Torre di Babele. Tra le migliaia di lingue del mondo, la maggior parte degli esperti concordano sul fatto che le lingue rientrino in 80 ceppi linguistici originari. E il numero 80 concorda con il numero delle famiglie che si sono disperse dalla Torre di Babele. Incredibile, no? Mentre venivano dispersi con le nuove lingue si saranno portati con loro i progetti di costruzione. Ed ecco perché vediamo delle strutture simili come la zigurat, le piramidi. Le piramidi a gradoni, altre strutture in tutto il mondo. In tutto il mondo. Cioè la gente si è riunita con la stessa idea e poi ha riprodotto la propria versione così come è accaduto alla Torre di Babele. Una versione nuova? Certo. Questo ha senso. Velocemente parliamo adesso di queste due ultime cose. Primo, quello che abbiamo scoperto è che abbiamo circa 300 leggende del diluvio universale per tutto il mondo e in diverse culture che assomigliano alla storia della Genesi. E questa è una grandiosa conferma della storia biblica. Poi questa è una cosa interessante da vedere. Vediamo che moltissime persone in tutto il mondo riescono, con il loro albero genealogico, a risalire ad uno dei figli di Noè. Davvero? Non è forte. Diamo due esempi per divertirci un po'. Gli irlandesi possono tracciare il loro albero genealogico che risale a Jaffe, il figlio di Noè, lassù in alto. E il nostro caro amico Bodhi oggi parla un sacco dell'albero genealogico nel suo libro La Torre di Babele, un'opera davvero bella. Questo è forse il mio preferito, il popolo Miao della Cina risale nella sua genealogia a Noè. Impressionante, ma vanno oltre. Il suo albero genealogico rimanda al suolo. Al suolo. Tutto risale al suolo. È grandioso, no? Incredibile. E ci sono anche dei riferimenti biblici, perché Adamo proviene dalla polvere e del suolo. Perciò vediamo continuamente queste conferme e non dovremmo esserne sorpresi, perché questa è la parola di Dio. È così bello. Dio fa tutto alla perfezione, passato, presente e futuro, perché Lui è Dio e non fa nulla di sbagliato. Ci fidiamo di questo libro perché è storia e salvezza. E non ti delude mai. No, infatti. David, mi piace condividere queste risposte con te e so che questo è parte di quello che fai nel tuo ministerio, cioè mostrare alle persone che possiamo difendere la nostra fede. La parola di Dio è vera. Ci sono le risposte e mentre stiamo saldi in questo fondamento, possiamo coraggiosamente difendere la nostra fede senza abbandonare il nostro fondamento. Possiamo dare una risposta alle domande scettiche che assigliano così tanti cristiani in quest'epoca e proclamare coraggiosamente il Vangelo. E questa è una cosa grandiosa. Certo. Siamo tutti un'unica razza. Non c'è una cosa del genere come il razzismo. Questo ha diviso così tante persone e si basa spesso su presupposti evoluzionisti che dicono che alcune persone sono più in alto o meno in alto rispetto ad altre. Infatti abbiamo collaborato a un DVD dal titolo La risposta biblica al razzismo non riguarda il colore della pelle. No. E riguardiamo alcuni di questi concetti in modo approfondito. Brian, voglio ringraziarti moltissimo per essere venuto qui. È stato veramente un incoraggiamento e una benedizione. E ci farà piacere rivederti. Sarà un piacere. Bene. E ancora grazie. Non è incoraggiante sapere che in un mondo pieno di tensioni razziali siamo tutti fratelli e sorelle, parte di una grande famiglia creata al principio? Questa famiglia è stata separata in così tanti modi diversi. Punto primo è stata separata dal peccato nel giardino. È stata separata dalle lingue nella torre di Babele. Forse in modo più profondo è stata separata dall'odio e dall'ignoranza perpetuati da Charles Darwin. Non siamo stati separati solamente l'uno dall'altro. Siamo stati anche separati dal nostro Creatore. Lui vuole risanare questo rapporto tra noi e Lui e ha aperto una strada attraverso il sangue di Gesù Cristo che è stato sparso per noi. Yeshua di Nazareth, il Messia. Se non lo hai ancora accettato, voglio farti sapere che questo cambierà per sempre la tua vita. Puoi far parte della sua famiglia per l'eternità. Spero che tu sia stato ispirato dal programma di oggi e ti incoraggio ad andare, prendere la tua Bibbia e studiare queste cose personalmente. Se hai domande, lasciali sulla pagina Facebook. Forse riusciremo a rispondere in un altro episodio. Voglio ringraziarti per aver visto Creazione nel XXI secolo. Noi amiamo affrontare questi argomenti difficili per portare a Dio la gloria in tutto quello che facciamo. Qui è David Reeves e fino al prossimo episodio di Creazione nel XXI secolo vorrei che continuasti a guardare in alto perché veramente i cieli e tutto ciò che vediamo dichiarano la gloria di Dio. di Dio la gloria di Dio.